Ciao ragazzi, quando vi iscriverete ai nostri centri estivi vi verrà consegnato il Summer Kit. Al suo interno troveremo un cappellino arancione per proteggersi dal sole, una cuffia da bagno per poter entrare in acqua con i vostri amici e un braccialetto di riconoscimento con su segnato il numero delle SOS da chiamare in caso di stretta necessità. Inoltre il Summer Kit è comprensivo di assicurazione. Che cosa hai messo nello zaino per il centro estivo, Lorenzo? Ho messo il Summer Kit, l'asciugamano, l'astuccio con i penerelli, le ciabatte, la borraccia, il cambio completo e il costone. Fantastico! Grazie! 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 Grazie!